Questa mattina, alle prime luci dell'alba, i carabinieri della compagnia di Taurianova hanno arrestato tre soggetti, già noti alle forze dell'ordine, per furto e recitazione di due camion per la raccolta dei rifiuti del comune di Polistena, che erano stati rubati nella notte del 20 agosto scorso. Due di loro, dopo aver rotto i lucchetti del cancello principale del centro raccolta rifiuti comunale di Polistena, avevano rubato i mezzi parcheggiati all'interno, in particolare un furgone, una motrice con la gru e un cassone scarrabile, utilizzati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, causando disservizi all'intera popolazione, che per diversi giorni ha avuto problemi con la raccolta dei rifiuti. Una terza persona, invece, è il gestore dell'autocarrozzeria, all'interno della quale, nel novembre scorso, è stato rinvenuto dai militari dell'arma uno dei mezzi che erano stati rubati. Ma anche se l'uomo aveva negato di conoscere la provenienza del furgone, per lui è scattato lo stesso l'ipotesi del reato di recitazione. I tre ora si trovano ai domiciliari, con l'aggravante del divieto di comunicazione e con persone non conviventi.